Perché il design è il lavoro più bello del mondo, ti permette di immaginare il futuro, progettarlo e quando ti va bene anche vederlo realizzato, non si vede di più bello. Assolutamente sì, il mio studio si chiama Glocal Design, pensa globale, agisci locale, se non avessi una radice italiana da cui attingere difficilmente riuscirei poi a lavorare. Credo che sia per ora lo specchio di Mauro, dove si unisce concetto e idea in una forma assolutamente semplice. Praticamente è uno specchio che rappresenta il muro di Berlino e ci dice che noi siamo il limite di noi stessi, siamo il muro di noi stessi. Praticamente tutto, mi è stato anche detto che devo imparare e capire cosa voglio fare da grande. Quest'anno il salone io l'ho messo in croce, però in realtà l'ho messo in croce con uno specchio in collaborazione con Swarovski che brilla, perché secondo me il design italiano brilla e brillerà per la qualità del saper fare italiano. Munari, li ripeterò ma Munari. Essendo curioso mi piacerebbe disegnare moltissime cose, in realtà ad esempio mi sono venute in mente delle macchine che è la mia passione, dei tavoli che sto realizzando, in realtà un po' tutto, non ho un prodotto che preferisco. Ma le macchine magari per Ferrari. Eh, vorrei fare un prodotto con Ross Lovegrove perché è talmente lontano dalla mia percezione della forma, dalla mia percezione dei volumi che mi piacerebbe imparare qualcosa in questo senso. Come concetto mi ripeto è Glocal, pensa globale agisce locale. E anche il secondo principio del mio studio che è il design secondo me è comunicazione. Ogni prodotto ha in sé un messaggio prima di progettare e secondo me occorre definire bene qual è il messaggio che si vuole dire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.